Buon halloween una lettura valida per 21 giorni a partire da oggi dalla sera di halloween ma che può essere valida anche in altri periodi dell'anno riceverete un consiglio un messaggio scegliendo un numero da uno a quattro ci sono quattro varianti se volete potete anche formulare una domanda su un argomento qualsiasi e scegliere un numero da uno a quattro e vi verrà data appunto una risposta un consiglio un messaggio il mazzo è questo the halloween tarot della us games systems tarocchi di halloween più il mazzo delle streghe dal mio lavoro fatto con massimo alfaioli lo scrino degli oracoli poi tradotto in francese quindi ho preso adesso le carte francesi quindi lo scrino degli oracoli in italiano dei vecchi e l'esoracle della sorcier in francese grimo edizione grimo allora pronti cominciamo lettura numero uno vediamo questo è l'arcano maggiore l'imperatore poi abbiamo l'ostacolo e la carta delle streghe allora la carta delle streghe il desiderio e l'ostacolo il 10 di zucche che corrisponde al 10 di denari quindi che cosa possiamo dire con questa estrazione con questa variante che c'è un desiderio c'è qualcosa che vi spinge nei prossimi giorni lo sentirete ancora di più c'è una voglia di fare qualcosa o di ottenere qualche risultato però siccome l'imperatore rappresenta una autorità dovete sottoporre questo vostro desiderio all'approvazione di qualcun altro di un'autorità o comunque dovete limitare un po questo desiderio perché potreste incontrare qualche freno qualche inibizione il 10 di denari come un ostacolo ci dice che l'argomento è la casa la famiglia cioè dove c'è un qualche problema comunque in relazione a questo abbiamo detto finora la casa la famiglia l'ufficio un ambiente chiuso un edificio un gruppo di persone andiamo adesso alla lettura numero due e vediamo la ruota della fortuna come arcano maggiore poi abbiamo il nove di diavoletti che corrisponde al nove di bastoni che la carta delle streghe la guarigione ecco qua quindi che cosa ci vuol dire ci vogliono dire queste tre carte ci vogliono dire che avrete un qualcosa di positivo quando sarà il momento ruota di fortuna ruota che gira e quindi arriverà qualcosa che state aspettando che vi darà soddisfazione non è detto però subito nei prossimi giorni magari un po più avanti nell'arco di questi 21 giorni che abbiamo fissato come validità di queste letture però siccome c'è la carta della guarigione dovete prima mettere a posto qualcosa sistemare qualcosa accomodare qualcosa e il nove di diavoletti o nove di bastoni dice che la situazione è poco chiara in relazione a quello che vi attendo quello che avete chiesto quindi chiarire la situazione accomodare sistemare fare qualche passo e poi arriva una situazione fortunata vediamo adesso il numero 3 e qui abbiamo come arcano maggiore il matto ecco qua poi carta delle streghe e arcano minore che rappresenta come vi ho detto l'ostacolo è l'arcano minore in questa questa estrazione di oggi rappresenta sempre l'ostacolo quindi allora la carta delle streghe le coven francese cioè la congrega è una parola inglese ma insomma la usano anche in francese la congrega il gruppo di persone e il 3 di fantasmi 3 di spettri che corrisponde al 3 di coppe allora qui c'è da dire che qualcosa di stravagante di un po' fuori dal comune vi verrà incontro insomma vi succederà avete la possibilità di esprimere magari qualcosa di personale un po' fuori dagli schemi ci può essere un divertimento ci può essere qualcosa insomma una sorpresa ecco in relazione anche a un gruppo di persone a un gruppo di amici a un gruppo di conoscenti a un ambiente dove che è fermentato da persone e anche diciamo con essendo la carta dell'ostacolo una carta positiva che rappresenta il benessere ci sono questi il 3 di coppe quindi brindisi l'allegria eccetera in linea generale insomma questo è un buon pronostico però fate attenzione a non esagerare cioè la carta dell'ostacolo mette in guardia sull'evitare le esagerazioni evitare di essere superficiali di brindare prima di aver ottenuto il risultato di eccedere insomma di darvi accessi va bene allora vediamo poi la numero 4 abbiamo la papessa le prove cioè la prova prova da superare e come arcano minore il cavaliere di pipistrelli night of bats che rappresenta il cavaliere di spade corrisponde al cavaliere di spada la qui che cosa c'è da dire c'è da dire che bisogna essere cauti la papessa invita a usare saggezza riflessione approfondimento non agire in maniera superficiale approfondire la questione insomma capire bene poi una prova da superare quindi momento di difficoltà momento in cui ci vuole impegno ci vuole fiducia coraggio insomma sentirsi in grado di poter affrontare questa situazione e questo cavaliere di spade indica che dovete combattere quindi dovete in qualche maniera questo è una previsione un po un po sfavorevole nel senso che sarà richiesta attenzione insomma ci vorrà forza determinazione per risolvere qualche problema spero che queste letture vi siano piaciute buon halloween ancora un saluto un abbraccio un abbraccio grazie a tutti